sempre ieri alla Rendella di Monopoli per il tecnico della Nazionale Maschile di Pallavolo Fefe De Giorgi. Vediamo. Si è tenuta ieri sera alla Biblioteca Rendella di Monopoli nell'ambito di Prospero Young la presentazione di Noi Italia, il libro scritto da Fefe De Giorgi. Il commissario tecnico della Nazionale di Pallavolo Maschile è stato accolto dalle giovanissime pallavoliste della Fenix che accompagnate dai loro tecnici hanno intonato l'ino di Mameli facendo subito emozionare il tecnico Salentino che poi intervistato da Fabrizio D'Alessandro e Sara Viale ha ripercorso alcuni momenti dei campionati europei e mondiali vinti dagli azzurri ma ha anche fatto una panoramica sul mondo della pallavolo italiana del passato e attuale. De Giorgi mostrando doti umane da verorare si è poi concesso alle tantissime domande dei giovani presenti. È nato soprattutto non tanto per festeggiare l'Europeo ma per mandare un messaggio di dire che dietro a un risultato c'è un percorso anche valoriale che stiamo facendo con i ragazzi cioè un percorso che è molto focalizzato sul processo di crescita, sul loro coinvolgimento, sulla maglia azzurra. Ci sono tante cose che chiaramente non si possono vedere e sono cose che sono state portate avanti anche per il mondiale quindi probabilmente bisogna scrivere un altro che comprenda anche il mondiale ma la linea è quella lì, la linea non è cambiata. Il segreto per plasmare un gruppo di giovani è renderli maturi a tal punto da salire sul tetto del mondo? Ma i segreti non è che ce ne sono, sono delle cose abbastanza semplici ma che devono essere fatte tipo i ragazzi devono sentire la fiducia, questa è una parola che viene usata e abusata, fiducia. Loro hanno sentito molto da parte mia nei loro confronti questo aspetto e l'hanno sentito anche nei momenti meno belli diciamo come è stato per esempio la VNL e poi bisogna creare un contesto che è coerente ai giovani cioè nel quale loro vivono questa realtà sapendo che è una fase, un processo di miglioramento e quindi non si sentono giudicati troppo anche se sbagliano qualcosa ma mettono la loro brillantezza diciamo al servizio, il loro entusiasmo però ecco bisogna creare un ambiente di questo tipo allora poi come abbiamo visto insomma sono capaci di prendersi responsabilità anche importanti.